Allora, buonasera a tutti. Io sono Matteo Lancini, sono il curatore, diciamo, dell'area famiglia di questo progetto Open. È un progetto che Vodafone ed edizioni Zero hanno organizzato in triennale. Abbiamo chiesto appunto a un altro illustre davvero e competente studioso di questa materia. Suè Paolo Ferri che insegna teorie tecniche dei nuovi medi e tecnologie didattiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Milano Bicocca. I nativi digitali, per dirla chiara, sono quelli che sono nati in case e famiglie, nelle quali c'era già internet, nelle quali ci sono degli schermi interattivi, nelle quali l'uso degli strumenti digitali, non viene neanche appreso, ma come nel caso di tutti i bambini, viene assorbito. La tecnologia è molto introiettata, è molto vicina, anzi è strutturalmente imbricata col sé dei nativi. L'autismo generato dai social network oppure i rischi di addiction, beh ci rendiamo conto che questa generazione probabilmente vede e costruisce il mondo in maniera diversa da noi. È importante rendersi conto in qualche modo di questa sorta di diversità antropologica che non sappiamo bene qual è. Potremmo approfondire questo tema perché gli studi non è che è un fenomeno che è successo 15 anni fa, non ci sono ricette, c'è un fenomeno da studiare, da capire bene perché è molto vicino al sé dei nostri figli e quindi bisogna maneggiarlo con cura. Grazie a tutti e buona Pasqua! Grazie a tutti e buona Pasqua!